calendario concorsi 2024 quando usciranno i concorsi per le forze armate o di polizia nel 2024 ciao sono leonardo sono il fondatore di concorsi militari academy la prima accademia online che ti prepara a superare i concorsi per le forze armate o di polizia in questo breve video appunto ti daremo ti darò tutte le date dei prossimi concorsi in uscita nel 2024 piccola premessa prima di iniziare le date che vi daremo quindi le date che adesso vi elencherò ovviamente sono date nate di queste date non è che noi ce le spariamo tutte a caso no non spariamo a caso date sono frutto di tutto il nostro storico noi sono più di quattro anni che facciamo questo lavoro quindi noi abbiamo uno storico di calendario concorsi quindi andando ad osservare lo storico degli anni precedenti riusciamo diciamo così a prevedere quando saranno in maniera indicativa le uscite dei concorsi nel 2024 ovviamente questo serve esclusivamente a iniziare a prepararsi in maniera preventiva ok quindi questo non serve per aspettare fino all'ultimo momento ma al contrario questo vi serve per iniziare a studiare prima quindi ovviamente se non volete essere da soli avete delle lacune avete delle difficoltà ci avete già provato più e più volte e non avete diciamo così ottenuto degli ottimi risultati il suggerimento qual è quello di prepararvi con noi quindi preparatevi con noi non fatevi problemi prenotate una consulenza così vi daranno tutte le informazioni che vi servono per iniziare a studiare con noi iniziamo con ordine allora all'inizio vi elencherò tutti i concorsi in uscita delle forze armate dopodiché passeremo alle forze di polizia primo concorso è l'accademia ufficiale esercito questo concorso molto probabilmente uscirà intorno a gennaio febbraio 2024 questo concorso come il concorso sotto ufficiali dell'esercito e anche tutte le altre accademie tutte le altre scuole sotto ufficiali sono concorsi periodici tutti gli anni escono sempre nello stesso periodo quindi in questo caso escono tutti intorno a gennaio febbraio oppure febbraio marzo più o meno sono queste le date perché ovviamente perché sia le accademie che le scuole sotto ufficiali prevedono diciamo così un'università ok quindi l'anno accademico inizia per tutti a settembre le accademie hanno un iter un po più lungo che escono intorno a gennaio febbraio mentre le scuole sotto ufficiali hanno un iter un po più corto e quindi escono intorno a marzo aprile più o meno siamo quelli quindi andando avanti accademia ufficiale esercito quindi esce a gennaio febbraio 2024 le scuole sotto ufficiali quindi marescialli esercito esce intorno a marzo aprile 2024 poi la domanda che di solito ci fanno è questa quando verremo convocati per la prova di solito si viene convocati un mese dopo l'uscita del bando poi andiamo avanti abbiamo vfp4 esercito italiano allora vfp4 in genere esce a maggio ok maggio giugno più o meno siamo lì ricordandosi che quest'anno sarà l'ultimo anno che ci sarà il vfp4 per quale motivo perché a partire dal 2025 secondo una riforma sarà il vft finisce il vfp4 e inizia il vft dopodiché abbiamo il vfi abbiamo il primo blocco che è già uscito è stato anticipato ottobre 2023 poi abbiamo il secondo blocco che esce intorno a gennaio febbraio 2024 e poi infine abbiamo il terzo blocco che esce a luglio 2024 infine abbiamo le scuole militari quello dell'annunziatella e teolie che sono tutte e due le scuole militari per l'esercito in questo caso questi concorsi escono ad aprile e a maggio andiamo avanti con la marina militare marina militare abbiamo accademia ufficiale marina che come quello dell'esercito esce a gennaio febbraio abbiamo quale sotto ufficiali esce a marzo aprile poi abbiamo i vft che anche in questo caso partono dal 2025 il vfp4 che anche in questo caso se ne parla per maggio giugno e infine abbiamo vfi marina che è stato anticipato ottobre 2023 per ultimo teniamo le scuole militari in questo caso della marina francesco morosini che anche in questo caso ad aprile o a maggio 2024 aeronautica militare accademia ufficiali anche in questo caso gennaio febbraio 2024 scuole sotto ufficiali marzo aprile 2024 vft a partire dal 2025 vfp4 ufi novembre dicembre infine abbiamo la scuole militare giulio 2 chiedo scusate la pronuncia aprile 2024 calendario concorsi 2024 parte seconda allora iniziamo dai carabinieri accademia ufficiale carabinieri come le altre gennaio febbraio 2024 sotto ufficiali carabinieri come le altre marzo aprile 2024 allievi carabinieri molto probabilmente maggio giugno 2024 dopodiché abbiamo la guardia di finanza l'accademia ufficiali sarà sempre intorno a gennaio febbraio marescialli guardia di finanza sarà intorno a marzo aprile infine abbiamo allievi finanzieri che sarà intorno a settembre ottobre dopodiché abbiamo polizia penitenziaria allora in teoria ci sarà un concorso di ispettori che dovrebbe uscire entro gennaio e allievi agenti polizia penitenziaria che dovrebbe uscire intorno a marzo aprile infine come per ultimo abbiamo lasciato la polizia di stato le date che vi stiamo dicendo adesso della polizia di stato non sono previsioni in questo caso sono frutto di comunicati pubblici che potete trovare online fatti dai vari sindacati della polizia di stato avremo i concorsi ispettori verso marzo aprile 2024 dopodiché abbiamo due concorsi riservati allievi agenti polizia di stato il primo aperto gennaio 2024 e infine avremo allievi agenti polizia fp1 e vfp4 e vfi che sarà entro marzo 2024